Entro lunedì arriveranno al porto di Marina di Carrara poco meno di 100 migranti, fra i quali una trentina di minorenni. È quanto ha confermato, parlando venerdì mattina con i giornalisti, il presidente della regione toscana Eugenio Giani. L'arrivo è previsto per il pomeriggio di domenica. Si tratta della Ocean Viking, la stessa nave della ONG SOS Mediterranea, al centro dello scontro diplomatico fra Italia e Francia lo scorso novembre, che venne poi accolta nel porto di Marsiglia. Al momento del salvataggio, a largo della Libia, si trovava a 1500 chilometri dal porto Apuano. Per l'esattezza a bordo si trovano 95 naufraghi, tra questi ci sarebbero 38 minori non accompagnati, secondo il consigliere comunale ed ex deputato Cosimo Ferri. La regione e la protezione civile hanno già predisposto i padiglioni di Carrara Fiere per l'accoglienza di migranti per alcune ore, in attesa che siano espletate le procedure che consentiranno di indirizzarli poi verso le altre destinazioni previste dal ministero. Sabato intanto a Marina di Carrara la sindaca Serena Righi e l'amministrazione comunale effettueranno sopralluogo nei locali della fiera per verificare l'allestimento dell'accoglienza e degli spazi che serviranno ad effettuare controlli medici su naufraghi.